Bob rimane con noi per tutto il weekend, ok? E scattiamo una foto per ogni cosa divertente che facciamo. E poi le attacchiamo sull'album di Baby Bob. Questo è Bob a casa di Jasper. E qui è con Harley. Oh, hai fatto un po' di karate, Bob. Oh, what the? Non c'è da scherzare con te. Qui invece è quando è andato in vacanza con la signora Terrier. Oh, sì. Ha portato Bob con sé quando è andata in Scozia. Wow, Bob. Tu hai girato il mondo. Spero che ti divertirai anche con noi. Voi che ne pensate, ragazze? Sì! Ehi, quello è mio! Lascia! No, Bob! Quello è di papà! Attento, papà. Conosce il karate. Ok, adesso scatto la foto. Forza, Mucca, dai! Vieni di qua! Sorridi, Bob! Fammi vedere! Vieni dalla mamma, piccolo Jackie. Sto ancora cronometrando, bingo. Ma io devo prendere Jackie. Tu lavati i denti, io prendo Jackie. Ok. No, tu trova il cappello. Jackie lo prendo io. Tieni il tempo! Non lo trovo da nessuna parte. L'hai cercato bene? Sì, l'ho cercato dappertutto. Eccolo lì. Oh, sì! Forza, Jackie, dai! Che cosa diceva il nonno quando era un giovane soldato, mamma? Chi si affretta, aspetta! Chi si affretta, aspetta! Bingo! I denti! Ah, sì! Scusa! Tutto ok? Sì, tutto ok. Bene, ora aiutami a sistemare. Ma perché ti devo aiutare? Oh, ok. Ehi, ma chi prende Jackie? Ah, lo prendo io. La mia banana. La prendo io. Eccola chi arriva! Grouch in bluie. Bah, dentifriciosa. Ok, andiamo. Ti voglio fuori dalla porta tra un minuto. Posso portare il cappello come il nonno, mamma. Tirato su di lato in quel modo. Avete visto i miei occhiali da sole? Ok, ragazze. Adesso state un po' esagerando. Ci hai detto di trattarlo in modo speciale. Cili! Oh, vieni qui dalla mamma, tesoro. Amore, potresti aiutarmi? Come sta il mio scimmiotto preferito? Ehi, bello, quella lì è mia moglie. Non più ormai. Mamma ha sposato il signor Monkey Jocks. Cosa? Ma quando è successo? Guarda che avevo intenzione di dirtelo. Mi hai lasciato per una scimmia? Mi dispiace, caro. È solo che lui ha qualcosa di davvero speciale. E io che dovrei fare? Scusa. Oh, come dici? Oh, sì, è un'ottima idea. Ha detto che puoi fargli da maggiordomo. Che cosa? Anzi, mi piacerebbe molto. Come posso esserle d'aiuto, signore? Sì, signore, come desidera. Ve ne pentirete amaramente, ragazze. Si può sapere che succede? Il signor Monkey Jocks non vuole gli ossi sul suo letto. Vuole solo le banane. Il suo letto? Quello lì non è il suo letto. È il mio letto. Non più ormai. E questa è la sua stanza, adesso. Ci vediamo. Inserire moneta per fantastici premi. Ciao, King. Questa macchina non accetta monete immaginarie. Trovati un lavoro e guadagna quelle vere. Mamma, possiamo avere monete vere? Ho detto. Trovati un lavoro. Ma se andate a rifare il letto di mamma e papà, vi do 20 centesimi. Oh, andiamo. Ti tengo d'occhio, Artiglio Magico. Ecco qua, una moneta. Cha-ching! Avete un turno. Buona fortuna. Oh, io voglio la mia delfina. Ok, così. Ho i viti, viti, viti! Ura! Cosa? No! Ok, voi vi nascondete e io vi cerco. Via! Uno, due... Aspetta! Sì, aspetta un attimo. Ci nascondiamo solo se tu prometti di non dimenticarti di cercarci, Bluey. Non mi sono mai dimenticata. Sì, e come invece? Ok, ok. Ve lo prometto. Bene! Ora via! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ottene... Non farti distrarre! Dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciassette, diciassette... Diciassette, 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 diciassette,еди... Pronti o no? Sto arrivando! Ora, dove potrebbero essersi nascosti? Una palla da tennis! Oh, non farti distrarre, Bluie! Qui non c'è nessuno! Si sono nascosti proprio bene! C'è qualcuno qui? Niente Flappi, nemmeno qui! Ok, prima di venire qui, sono andata al divano a prendere l'ordinazione di papà! Buongiorno, cliente! Cosa posso portarle per colazione? Vorrei un uovo, per favore! Certamente, non ci vorrà molto! Un attimo, non voglio un uovo normale! Voglio un uovo di topollo! Che cos'è un topollo? Beh, è un incrocio tra un pollo e un topo! Ok, vado a chiedere allo chef! Faccia pure con comodo! Mi dispiace, Bingo! Abbiamo già cercato qui e si sta facendo tardi! Dovremmo cercare Flappi domani mattina! Oh, allora Flappi è scomparsa per sempre! Sta tranquilla, Bingo! Forse si sarà nascosta da qualche parte! Nascosta, hai detto? Lo so io dov'è Flappi! Lo so io dov'è Flappi! Dove? Ehi, papà robot! Sì, padrona! Ci serve che tu faccia una cosa! Vieni con noi nella stanza dei giochi! Subito, padrona! Aspetta, ho un'idea! Portaci nella stanza dei giochi! Subito, padrona! Dobbiamo andarci a ritmo di Beat Robot! Come desidera, padrona! Papà robot, noi ti ordiniamo di riordinare la stanza dei giochi! Servire le mie padroncine è un grande onore per me! Sta funzionando! Com'è rilassante! Già, dovremmo sempre riordinare in questo modo! Sì! A dire la verità, in futuro, papà robot, non vogliamo più riordinare la stanza dei giochi! Già, mai mai più! Mai mai più? Mai mai più più! Chiaro? Per niente! Capisci?